In Azerbaijan è stata condannata a sette anni e mezzo di carcere la giornalista investigativa Khadija Ismailova. Arrestata lo scorso dicembre è stata ritenuta colpevole di frode ed evasione fiscale. Una sentenza che ha ragioni politiche hanno denunciato i legali della cronista annunciando il ricorso in appello. È stata arrestata solo perché ha fortemente criticato il regime del presidente Aliyev, dice questo deputato del partito d'opposizione Musafat. E' una delle giornaliste più popolari in Azerbaijan, ecco perché è stata diffamata. Nel paese ci sono almeno 83 prigionieri politici. Ismailova aveva detto che il governo aveva raccolto prove false per incriminarla. In passato aveva indagato su casi di corruzione ad alte sfere politiche.